Sesta giornata del campionato di Serie 2 maschile di Pallannuoto, un prezioso pareggio per il Pescara, 9 a 9, ma con parziali che fanno riflettere, 2-4 il primo tempo, 1-3 il secondo, poi 3-1-3-1, clamorosa rimonta per i ragazzi di Checco Mammarella che è qui al nostro fianco, avete raggiunto il Civitavecchia proprio sul finire, ma una gara al cardiopalma, incredibile l'andamento. La gara è stata combattutissima, ma il mio rammarico è quello che noi cercavo nel pre-partita, ho detto ai ragazzi che l'approccio iniziale sarebbe stato non importante, importantissimo, pensavo con quel 2-0 comunque di riuscire poi a continuare a giocare, invece c'è stato un blackout che adesso con calma analizzerò, che ci ha portato fino a metà del secondo tempo, sotto addirittura stavamo 7-2, quindi sotto di 5. Poi è uscito il vero Pescara, il Pescara che comunque non molla mai, gioca con Mordente, abbiamo cambiato qualcosina in difesa, abbiamo sfruttato tantissime ripartenze che ci hanno permesso comunque di raggiungere il Civitavecchia che è venuto qua con una squadra agguerrita, formata da giovani e che devo fare i complimenti perché andare sotto di due reti e poi fare un ribaltone così ad arrivare fino a 7-2 sicuramente saranno dei ragazzi in gamba, però posso confermare ed essere contento che una squadra quando sta sotto di 5 gol riesce per poco a non vincerla questa partita, vuol dire che i ragazzi ci hanno messo tutto cuore e anima e hanno fatto un gran recupero, quindi complimenti.